ci troviamo in provincia di varese in una villetta di nuova costruzione di circa 160 metri quadri abitata da tre persone qua è stata installata una pompa di calore aria acqua qualea grazie al quale è stata raggiunta una classifica di efficienza a4 dai entriamo la pompa di calore installata è un modello splittato di taglia 12 kW abbinato ad un pavimento radiante utilizzato sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo durante il quale il sistema di ventilazione meccanica controlla e garantisce anche la deumidificazione acqua area è utilizzata anche per produrre acqua calda sanitaria abbinata ad un bollitore di 300 litri la caratteristica di questo impianto riguarda il posizionamento dell'unità esterna in quanto si è deciso di installarla più di 20 metri dal modulo idronico interno analizzando pertanto i dati di prestazione a meno 5 gradi temperatura esterna e la resa effettiva considerata la distanza in gioco si è optato per un modello da 12 kilowatt dai dati sull'attestato di prestazione energetica leggiamo che l'edificio è in classe a4 con un consumo di energia non rinnovabile di 52,54 kilowattora al metro quadro annuo e un'emissione di co2 ridotte di 11,67 kilowattora al metro quadro annuo panasonic